Ciao a tutti ecco qua iniziamo un video di Garen Free Fire come vedete sono al livello 1 o 0 perchè il gioco l'ho scaricato ieri e ho ancora tante cose da fare però li faccio più tardi vedo Garen Free Fire mi fa un gratso schermo stai facendo un video di Garen Free Fire? davvero? davvero? veramente basta dai davvero? si ovvio fa vedere è qua la registrazione non vedi? stupido vattenela qua ma hai già cominciato a parlare perchè parli che gente possa parlare? faccio come mi pare ok adesso facciamo un gran bel volo uuuu cavolo il treno non c'è andiamo a cercarlo allora un po' in andro davvero? perchè non stai mai zitta? sei stupido quello che si sente da qua ti voglio guardare tu 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 Allora, a te da un giro. Ok, diversi a molti a les. Grazie a tutti. Ciao, in questo incestamente mi ce l'avevo proprio una... almeno chi ce l'ha. Ah, sono fortunata. Ah, quanto bello. Perfetto. 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 Niente di che, non ho niente cavolo. Non avevo nulla con sé. Almeno l'abbiamo chiuso. Ho fatto fuori uno in meno. Ho fatto fuori ciò vuol dire che uno in meno. Noi dobbiamo stare attraverso e non essere fatti fuori anche qui. Noi dobbiamo stare attraverso. 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 Ok, adesso ce l'avevo. E di altri giro esse. Ah, non è come. E che se erano filmati? Ti finisco io. Non preoccuparti. Cavolo. Ok, basta così. Ti lascio molto lentamente. Perchè dovrei farlo? Se posso picchiarti? Ok, ecco qua. Mi serve di te e basta. Mi sa hai, ma? Ma正 infine, ma? Ho! Ma che perdu. Ho! Mi sa l' Paradise. Ma che perdo. Il fanno e perdo. Aha! Ho! He perdo. Ho! Ho! e 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 continuiamo con il video mi era fermato un attimo perché devo fare una cosa perché non 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 perché non puoi mai stare su camera non 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 Grazie a tutti.